Polemica politica intorno a questa foto, riesumata dagli archivi di Facebook da Massimo D'Alema. L'ex leader del PD in una intervista si è scagliato contro il candidato sindaco del PD a Roma, Roberto Giacchetti, vincitore delle primarie di domenica scorsa. Giacchetti si è fotografato su internet mentre traina un risciò su cui è seduto Renzi, ma questa non può essere l'immagine del sindaco di Roma neanche per scherzo, ha detto D'Alema. L'immagine è un fotomontaggio della pagina satirica Istituto Lupe su Facebook, pubblicata in data 8 gennaio, quando Giacchetti ancora non era ufficialmente candidato. L'aspirante sindaco l'avrebbe poi condivisa per scherzo sulla propria pagina Facebook, come ricostruito dal Corriere della Sera. Attualmente però sulla sua timeline risulta irreperibile, anzi c'è un vuoto dal 31 dicembre al 17 gennaio.